Da pochi giorni sono usciti ulteriori tre bandi per altrettanti dirigenti a tempo determinato, per un totale di cinque dirigenti a tempo determinato dall'inizio dell'anno. Noi riteniamo che questa decisione sia una decisione vergognosa. E così l'Assemblea del Personale, indetta dalla Funzione Pubblica della CGL di Arezzo, si è svolta nel chiostro di Palazzo Cavallo in concomitanza con il Consiglio Comunale. La riunione infatti si resa necessaria, dopo che nonostante l'appello dei rappresentanti sindacali le richieste di confronto sul piano assunzionale sono stati pubblicati altri bandi per l'incarico ad ulteriori tre nuovi dirigenti, dopo quello che ha portato alla nomina del nuovo direttore della Fondazione Guido d'Arezzo e quello per il settore della manutenzione si arriva così oggi a cinque incarichi dirigenziali. Queste assunzioni dirigenziali finiranno per esaurire la capacità assunzionale dei tempi determinati. Ci sono 25 colleghi a tempo determinato, 16 maestre delle scuole in scadenza di contratto a tempo determinato al 30 giugno, ci sono 6 vigili urbani in scadenza di contratto a tempo determinato al 31 luglio e non ci sono più le risorse per rinnovare i loro contratti. Quindi io mi chiedo, dal 1 settembre le scuole faranno meno di 16 maestre, la Polizia Municipale per tutto il lavoro che sta facendo in questa pandemia farà meno di 6 colleghi per i quali è anche investito in termini di vestiario, in termini di corsi di formazione. Facendo questi concorsi dirigenziali si esauriscono le risorse e quindi nel tempo determinato non ci saranno più risorse, residuano circa 30-35 mila euro con i quali non si potrà assumere praticamente nessuno. Secondo noi è molto più congeniale fare nuove posizioni organizzative, che è la nostra proposta che abbiamo fatto, che tende a valorizzare il personale interno con molte meno risorse economiche. Quindi oltre a un risparmio di risorse economiche ci sarebbe una valorizzazione del personale attualmente in forza già all'amministrazione comunale e quindi senza ricorrere a professionalità esterne che fra l'altro anche gli ultimi esempi degli ultimi anni non sono stati così edificanti.